Siamo qui a Sesto a Mose per cominciare la nostra prima discesa nella Signagüe Pista Perlittino. Questo è il secondo guidatore. Ci siamo seduti. Non ne ho la minima idea. Siamo qui. Siamo qui. Che conveniva una slitta a testa. Tengo aperto qui. Che conveniva sì. Pisteiamo. La cosa. Non si usa la testa. Monta. Sì. Adesso si va. No. Io sto. Hai imparato come si fa? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hai imparato come si fa a? No. A curvare. Sì. Sì. Vogliamo fermarci. Come si fa? A fermarci. A fermarci? Sì. 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 Ma in effetti. Non lo so. Ma questo ci evita pure. Oddio. 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 Ho perduto una gaffa, 2-3 su, ce l'ho rigirata, al contrario, andiamo a prendere. Bremschen, frenare, frenare, ce dobbiamo fare? Di la destra si fa? Eh, di la, di la, di la, vedi, se si giro anch'io, se si giro anch'io, comunque. Sì, ommo questo va giù adesso eh? Eh, eh. Siamo come i guidatori con il cappello di Domenico. Oh, 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 frena, frena. Sì, ma io stasera non mi muovo più. Eh? Sì, ma perché, perché ti accorti così? Ma lo vedi che io so? Perché ti accorti? Ma io mi faccio male. Eh, ho capito, ma io, non è che faccio a posto? Eh? 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 Attenzione! Eh? 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 Eh! Scusa non era meglio? Gli es тотini! Eh! Ascolta! Io dicevo, adesso io vengo giù un attimo a piedi, E tu provi da solo un attimo a vedere come te la cari, ecco, dammi lo zaino, e tu prova un attimo, e quanti due ce li hai? Ce li ho caldo, ecco io, non so se ti sto filmando ma... Prova a frenare però, mi raccomando, prova a frenare. Ascolta... No, di là, di là, di là... Odio, oh dio, oh dio, oh oh oh... Ascolta, 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 guarda che c'è una curva, guarda che c'è la curva, c'è la curva, c'è la curva, abbiamo capito come si fa a curvare perché è determinante, non ho visto quella curva, ma è bella strada per andare alla macchina o no no bravo 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 no no hai fatto bene è stato bravissimo oh oh dove andiamo dove diamo? aspetta 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 guarda sto scivolando piano è meno faticoso sciare allora via la giardi funziona dai dai faccio la truiamo di giù vai ho visto Siamo alla partenza della pista della Croda Rossa, prima panorama, ecco l'atleta Sabrina Siamo alla partenza della Croda Rossa, ecco l'atletà, ecco l'atletà, ecco l'atletà Ecco l'atletà Ecco l'atletà È ripartita, è ripartita Tornante Tornante Vai, 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 perfetto, vai, 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 vai Alla È ripartita, è ripartita, ecco l'atletà 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 È ripartita, ecco l'atletà